Ciao a tutti ragazzi qui il vostro Archei Parla, oggi siamo qua con un discorso che già abbiamo fatto tantissimo ai tempi di Cold War ma che qua su Vanguard va praticamente a moltiplicarsi e replicarsi fortissimo. La questione è come al solito la carenza di informazione e comunicazione, noto che principalmente sui social come su Twitter o Reddit, molti se ne lamentano per molti giocatori e Warzone che sono chiaramente comunque le community più grandi dove ci sono i contenuti più interessanti e dove c'è appunto il grosso dei contenuti, come al solito Zombie è un pochino da parte e ci può anche stare, anche su Cold War è sempre stato così. C'ho una toglia che giustamente Charlie Intel parlava del numero di QA tester ad Activision per Raven Software, quindi tutti i problemi che ci sono su Warzone. E questo non è che sia il problema principale per quanto sia comunque un problema, anche perché abbiamo visto che teoricamente con l'etterello boards di Warzone di Vanguard tantissime cose vengono più o meno comunicate o sappiamo su cosa stanno lavorando, quali sono i bug noti e tutto quello che in parte è programmato, anche se magari senza date o informazioni precisissime, è comunque qualcosa a grandi linee. E giustamente come stava discutendo Charlie Intel nei commenti di questo tweet con Modern Warzone, è chiaro che non ci può essere questa comunicazione del tipo ok all'ultimo secondo vi diciamo ok sta uscendo questo o abbiamo risolto questo, domani, oggi, tra qualche giorno c'è l'update, bisognebbe avere qualcosina leggermente prima per dire ok stiamo lavorando su questo, che ogni tanto comunque capita ma molto molto di rado e specialmente per Zombie tantissimi contenuti o update escono praticamente all'ultimo secondo o in certi casi non sappiamo neanche se sono usciti. E la cosa va a peggiorare in questo periodo che giustamente gli sviluppatori di Treyarch, Activision, Jammer Games e tutti quanti erano in ferie, c'era la parte natalizia, è ovviamente normalissimo e va benissimo perché chiaramente tutti quanti devono avere un attimo di ferie, un attimo di pausa e a fine anno specialmente anche da noi in Italia a tutto il periodo natalizio è passato praticamente a mangiare e dormire e guardare una poltrona per due. Ma battute a parte siamo comunque già verso la fine di questa stagione 1 e non si è ancora parlato per niente di Season Reloaded. Ci può stare appunto che ci siano dei periodi di ferie e di blocco perché comunque praticamente tutto quanto il mondo festeggia il Natale ed è un periodo di pausa, di ferie o comunque di rallentamento generale. C'è un toglie che quando si ritorna poi al lavoro dovrebbe esserci comunque dei piani praticamente chiari su quello che si deve fare, quello che si può fare e chiaramente poi comunicarlo o mostrarlo a tutti quanti i giocatori sui social. Per cui no che per adesso abbiamo comunque tre settimane circa fino alla fine di questa season e manca ancora la Season Reloaded, di conseguenza il blog, l'annuncio, la roadmap e tutto quanto e non penso che vogliono buttare tutto in un calderone e in due giorni mostrare i contenuti e poi rilasciarli perché quella tempistica è veramente pessima. Dove è finito magari tutto il periodo in cui si creava hype per cui si annunciava qualcosa abbastanza in anticipo, non troppo perché è il problema dal lato opposto ma comunque per prepararci i contenuti, mostrarceli e col tempo darci teaser, altri dettagli o piccole cose del genere. E a tutto questo aggiungiamo comunque i problemi che ancora il gioco ha per dire la sfida stagionale di Incendio e Bruci e Nemici che ancora non funziona e penso che la risolveranno entro la fine Season, mi sembrerebbe assurdo non vedere una soluzione ma magari risolverlo letteralmente due settimane prima o una settimana prima è troppo troppo tardi. Un problema così è capitato ovviamente anche su Cold War ma di solito è risolto alquanto in fretta. E specialmente per quanto riguardava le Season Reloaded anche su Cold War ci sono stati esempi simili in cui alcune cose state annunciate davvero all'ultimo secondo e non si capirà mai quando sarebbe uscito qualcosa. Ancora una volta questa comunicazione sui social, questo tipo di comunicazione non funziona. Non mi aspetto un update, un aggiornamento, una news ogni singolo giorno ma quando comunque stiamo aspettando qualcosa da diverse settimane almeno ogni tanto una piccola notizia, con tre che già ci lamentavamo se Jammer Games forse sta facendo ancora peggio. E in aggiunta da Content Creator posso dire che è una cosa veramente pesante perché ci sono dei giorni in cui assolutamente non so di che cosa parlare e mi piacerebbe tantissimo fare video tutti i giorni sempre stato il mio obiettivo per questo canale YouTube e finché ci sono tantissime informazioni, news, discussioni e cose del genere si può fare altri periodi veramente vuoti ci sono sempre e va bene ma se questi periodi vuoti sono ogni singola settimana inizia a essere un grossissimo problema. Ovviamente un punto di vista aggiuntivo non per tutti quanti il giocatore normale non gli interessa assolutamente nulla ma per me c'è anche questo da considerare. In ogni caso rimango curioso di contenuti che stanno arrivando ma crederei comunque averne più informazioni e con un certo anticipo. È soltanto la prima season e siamo neanche arrivati alla parte reloaded quindi c'è ancora molto tempo i miglioramenti si possono fare a parte tutti i problemi che ci sono magari ad Activision per il publishing per tutti i casini illegali che stanno partendo in questo periodo verso Activision o da Activision verso altri comunque penso che sia importante mantenere alta la comunicazione per tutti quanti i loro giochi anche perché il discorso alla fine che per quanto sia un pochino stupido e basic è vero che comunque Call of Duty fa una valanga di soldi quindi in qualche modo dovrebbero essere reinvestiti per fare ancora più informazione, contenuti e robe del genere per poi di conseguenza fare ancora più soldi almeno logicamente dovrebbe essere così secondo me. Qui ragazzi sono sicuro che in tanti condivideranno un attimo questa mia posizione che c'è dai tempi di Cold War ma anche prima ai tempi di Black Ops 4 stati periodi veramente pessimi in cui non c'è nessuna informazione per zombie per settimane o mesi ma anche per altre modalità che si aspetta un blog una roadmap o un qualcosa del genere per quelli che sono comunque i contenuti importanti in tempo nei DLC oggi sono le season e le season reloaded può essere veramente un problema non avere assolutamente nulla e non sapere cosa aspettarsi se non all'ultimo secondo che non dico diventi troppo tardi perché su Cold la gente comunque ci torna e ci gioca io in primis però non saprei avere quell'hype aggiuntivo e le informazioni è comunque la parte fondamentale altrimenti a cosa serve uno trailer, teaser, roadmap, blog e tutto il resto. Il video qui inizia con Cold è qui spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile tutte quante le informazioni e i tweet di Charlie Intel sono qui sotto in descrizione trovate anche se volete tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio a